segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te l'abbiamo detto un milione di volte forza italia e silvio berlusconi abbiamo sempre detto no però prima di evaporarne lo spirito ci vorrà tempo quindi se saranno bravi riusciranno a far prevalere la necessaria coesione in questi momenti poi vedi gli uomini la capacità di restare in piedi tra le ruine come si dice e tagliani credo che possa essere il soggetto adatto se un altro per l'affetto che lo ha legato il cavaliere lo sanno tutti insomma tantissime volte parlato con lui ecco silvio è uno dei fondatori ma questa da genitoriale questo affetto di tipo genitoriale